Una grande tradizione del nostro territorio sono le tavolate di San Giuseppe. Quest'anno a Piazza Almerina ne verranno allestite parecchie. Dentro il Palazzo Trigona sarà allestita la tavolata organizzata dal quartiere Castellina. Presso l'Istituto Capuana invece verrà allestita quella del quartiere Monte con la collaborazione di tutti i genitori dell'Istituto Comprensivo Luigi Capuana. L'Associazione Giovani Orizzonti allestirà una tavolata presso i locali attigui alla Chiesa della Madonna della Neve e anche l'Associazione Girasole continuerà a riproporre la propria tavolata. Novità quest'anno presso la Chiesa di San Giuseppe, sempre nei locali attigui, sarà allestita una nuova tavolata e per l'occasione il parroco della Chiesa permetterà una processione con il Santo, proprio con San Giuseppe. Ci troviamo presso la Sala delle Luci dove il Sindaco vuole parlarci di questa organizzazione particolare che riguarda tutta la città di Piazza Almerina ma in modo particolare la zona del Monte. Il Palazzo Trigona viene aperto al pubblico con questa occasione della tavolata. Sì, questo è un evento che è il risultato della collaborazione di soggetti pubblici e privati. L'idea che nasce dal comitato di quartiere Castellina, dal presidente Massimo Di Seri, assieme a Club Arti e Mestieri che è un importante club nazionale rappresentato a Piazza da Giovanni Di Bella e poi il comune e il parco della Villa Romana. L'idea è quella di trasformare la tradizionale tavolata di San Giuseppe in un evento di risonanza maggiore coinvolgendo dei panificatori e degli chef di diverse regioni nella preparazione di questa tavolata ma costruendo attorno a questa antica tradizione degli altri eventi in modo da avere tre giorni con iniziative diverse tra le quali la preparazione per esempio di un menu con piatti tipici del Settecento dal momento che il Palazzo Trigona è un palazzo del XVIII secolo. Carmelo, poi un'altra occasione importante sarà utilizzare gli spazi del palazzo per far musica quindi ci sarà il maestro Culturere e il maestro Capizzi che si esibiranno in un concerto di camera con pianoforte flauto. Sì, l'idea che abbiamo condiviso con il direttore del parco archeologico, l'architetto Guido Meli è quello di far diventare il Palazzo Trigona la porta del parco della Villa Romana e forse non tutti sanno che il perimetro del parco della Villa Romana comprende anche tutto il centro storico della città e va dalle Sorgenti, da Montagna di Marzo a tutto l'alveo del fiume Gela fino a Filosofiana. In questo modo poiché il Palazzo Trigona si trova al centro del percorso dell'acropoli d'arte, l'acropoli barocca che c'è su Piazza Cattedrale immaginate il Museo Diocesano, la Cattedrale, il Palazzo Trigona, poi la Pinacoteca e il Castello e al centro diventa la cerniera di questo sistema e quindi avremo la possibilità e la volontà di organizzare una serie di eventi durante l'anno che vedranno il Palazzo Trigona come luogo di questi eventi anche perché già dal prossimo mese procederemo, stiamo solo aspettando il trasferimento delle somme della Regione che avverrà appunto nelle prossime settimane, poi donalizzeremo la Piazza Cattedrale nello spazio compreso tra Palazzo Trigona e la Cattedrale stessa. Sono con me il Presidente del quartiere Monte e il Presidente del quartiere Castellina. Allora, cosa è avvenuto quest'anno? Voi continuerete ad allestire la tavolata presso l'Istituto Comprensivo Luigi Capuana con la collaborazione di tutti i genitori? Sì, noi continuiamo a portare avanti quella tradizione coinvolgendo le famiglie, gli alunni per far capire loro il significato e l'importanza della tavola di San Giuseppe che ha nella comunità appunto piazzese. Ma grande momento di collaborazione perché ospiti del quartiere Monte presso il Palazzo Trigona il quartiere Castellina che organizza un evento di ben quattro giorni. Tutto comincia venerdì con? Sì, tutto comincia, devo fare una premessa assieme all'amministrazione comunale. Prego, si avvicina anche il... Uno dei componenti del club Arti e Mestieri, Giovanni Di Bella. Giovanni Di Bella, il nostro Giovanni Di Bella. Devo dire assieme a noi come comitato di quartiere e all'amministrazione comunale c'è il servizio parco archeologico Villa Romana del Casale. Ne ha già parlato infatti il sindaco. Che assieme stiamo organizzando. Come nasce intanto l'idea? L'idea nasce perché come comitato di quartiere abbiamo catalogato la disponibilità da parte del servizio parco archeologico di volere aprire alla città Palazzo Trigona. E allora migliore occasione di questa non poteva esserci se non quella, vantando pure la presenza del titolato club Arti e Mestieri, di presentare alla città questo momento culturale che è la tavolata di San Giuseppe. Come bene detto tu, noi abbiamo voluto dare origine ad una a quattro giorni. Tutto inizia il praticamente 16, il venerdì, con l'apertura dei laboratori perché i maestri del club Arti e Mestieri all'interno di Palazzo Trigona si lavoreranno per preparare le pietanze, il pane in particolare, che poi verrà messo in mostra nella tavolata. Questo è un grande momento didattico perché saranno presenti gli alunni di alcune scuole. In pratica i laboratori, oltre che visitati, potranno anche essere, come bene dicevi tu, praticati dagli alunni delle scuole. Quindi questo momento culturale lo si vuole offrire anche sotto l'aspetto prettamente didattico. Assieme alla novità quindi della lavorazione, dell'arte nobile, della lavorazione del pane, ci saranno pure alcuni artigiani ceramisti della vicina Caltagirone, non solo, noi avremo la presenza del nostro Giuseppe Riguori, che installeranno là dei laboratori, della lavorazione, della decorazione, della ceramica e quindi anche questo momento culturale verrà messo in risalto. Questi quattro giorni saranno caratterizzati con l'apertura, il 16, il 17 ci sarà sin dalle 10 di mattina, 9 e mezza, 10 di mattina, la possibilità di poter visitare in tutta la sua maestosità Palazzo Trigona. Questa è stata anche la volontà e il piacere dell'architetto Meri di poter aprire il palazzo, come dicevo in premessa, alla città. E a seguire nel pomeriggio, intorno alle ore, parlo di sabato 17, già intorno alle ore 19 ci sarà un concerto da camera con il pianista maestro Cultreri e con un altro maestro che con il flauto ci allietterà la serata che è il maestro Carmelo Capizzi. A seguire i maestri del club Arti e Mestieri offriranno un banchetto con pietanze tipiche e specifiche del Settecento, un menu ricco e per cui sarà un momento veramente importante, un momento culinario importante perché tra l'altro anche loro hanno fatto uno studio di ricette tipiche del Settecento. Quindi sicuramente sia venerdì che sabato per l'intera giornata, ma questo anche domenica e lunedì, il palazzo Trigona potrà essere visitato, ma insieme alla visita degli splendidi spazi ci sarà la degustazione. Andiamo avanti con domenica? Sì, domenica poi ci sarà perché voglio dire laddove noi abbiamo cercato di fare fondere in pratica quello che è l'aspetto folcloristico, l'aspetto culturale e anche l'aspetto religioso e per cui in particolare giorno 18 sarà il parroco della Chiesa Madre della Basilica Cattedrale, Don Filippo Bognanni, che verrà a benedire il banchetto elevato in onore a San Giuseppe, la tavolata. Per cui da giorno 18 ci sarà la visita, a seguire un concerto da camera e questo sarà un momento, devo dire, importante perché avremo la possibilità di così dare un momentino, uno spazio ad un nostro giovane concittadino, Gianluca Purnari che è pure lui pianista di grandi promesse e per cui pure Gianluca darà origine ad un concerto da camera e poi la serata si concluderà con la consegna dei riconoscimenti ai maestri e agli sponsor che hanno permesso perché come si vede nella locandina grazie agli sponsor anche questo è stato possibile. Al momento opportuno poi li citeremo, mentre il 19 chiunque potrà visitare nella sua maestosità, dico sempre, Palazzo Trigona ed altresì ammirare, dico quella che è la bella tavolata allestita in onore a San Giuseppe, per poi dopo le 19, voglio dire, dopo che così come tradizione e fede vuole, dopo che i Santi, quindi la Sacra Famiglia, avranno per primi aperto il banchetto a San Giuseppe, poi ci sarà la distribuzione di tutti i pani delle pietanze ai visitatori e nello stesso tempo non vogliamo comunque dimenticare il momento che dà motivo ad un comitato di quartiere di esserci, che è quello di ricordarci delle famiglie bisognote, per cui dico, gran parte delle pietanze e dei pani particolari verranno date a famiglie che, ahimè, forse ne hanno anche un pochino di bisogno. Questo è lo spirito della tavolata di San Giuseppe, perché non dobbiamo mai dimenticare come nasce la tavolata. La tavolata è un aiuto a tutte quelle famiglie bisognose, questo ritornerà a fare con la conclusione dei quattro giorni. A tutti consiglio di visitare non solo la tavolata che si troverà nel Palazzo Trigona, ma tutte le tavolate che saranno allestite nella città di Piazza Armeria.